un'azienda molisana di Sant'Elena Sannita che oggi è ben rappresentata da Pierluigi di Iorio il responsabile della qualità per la produzione Pierluigi benvenuto grazie a voi e benvenuti al mio stand allora in un minuto la storia della di Iorio S.P.A. un'azienda che ha oltre 100 anni sì un'azienda longeva da 120 anni anzi più di 120 anni 124 per l'esattezza produce acqua minerale e bibite gasate è una storia longeva l'azienda che ha superato due guerre e familiare soprattutto è arrivata alla quarta generazione rappresentata oggi qui in fiera da me e mio fratello ma contemporaneamente siamo anche al Golf Food di Dubai dove ci sono altri componenti dell'azienda e della famiglia che sono a rappresentarla Nell'arco di questi oltre 120 anni avete mantenuto integra la produzione di acque minerali poi un bel giorno qualche anno fa avete inventato questo nuovo marchio Sengsup di cosa si tratta? Sì, qualche anno fa abbiamo praticamente portato in un nuovo mercato nel mondo della mixology il marchio Sengsup che viene fuori dall'esperienza, dalla tradizione da tanti aspetti che hanno caratterizzato questa azienda nel corso degli anni nel mondo del beverage quindi ci siamo spinti con la linea Sengsup in questo nuovo mondo giovanile in questo nuovo mondo dinamico con una linea al tempo stesso molto aggressiva che appunto qui al Beer Attraction di Rimini esponiamo attraverso questa area lounge bar con i nostri barman e con le nostre ragazze Quali i prodotti che fanno parte di questa linea? Allora, i prodotti sono delle bevande sodate analcoliche che vanno poi miscelati con dei distillati partiamo dalla tonica per arrivare poi al Ginger Beer che è la bevanda più speziata, più forte, tra virgolette passando poi per il Ginger Ale, la Lemon e anche l'acqua di soda La novità che presentate in questa occasione è il prodotto al Mirto Sì, diciamo che anche un'altra novità dell'azienda di Oreo è la nuova ricetta al Mirto una ricetta particolare che richiama appunto la fragranza che viene fuori dalla bacca del Mirto quindi un prodotto che sta avendo un buon riscontro qui al Beer Attraction di Rimini e speriamo appunto di avere anche un riscontro positivo sul mercato E allora Pierluigi, per chiunque si trovi all'altra parte e desideri entrare in contatto con voi qual è l'indirizzo di posta elettronica che possiamo fornire affinché appunto possano essere richieste le informazioni necessarie per entrare in contatto e chissà diventare vostri clienti Allora, l'indirizzo è l'info chioccioladioriospa.com per chiedere informazioni commerciali, di marketing tutto quel che c'è bisogno per far riferimento poi a noi E allora è arrivato il momento dell'assaggio qui è il miglior momento delle interviste che cosa proviamo? Beh, qui ci sono i nostri ragazzi che stanno preparando mentre noi stiamo facendo l'intervista stiamo preparando dei cocktail che hanno alla base ovviamente i nostri prodotti a marchio Sengsap credo abbia preparato un qualcosa a base di tonica e adesso alla fine dell'intervista ci gusteremo un bel cocktail Ce lo meritiamo, grazie per Luigi per il contributo Grazie, grazie a voi, buona continuazione